Bentornati su N7 Italia, il canale dedicato alla serie Mass Effect. Oggi vi propongo un viaggio nel tempo. Torniamo indietro di circa due anni e mezzo, per la precisione fino a dicembre 2020, e proviamo a rivivere il momento in cui Bioware ci stupì pubblicando il primo e finora unico teaser trailer del prossimo Mass Effect. Credo ve lo ricordiate bene, perché la sorpresa fu davvero grande. L'N7 Day 2020 era già passato da più di un mese, e in quell'occasione, oltre all'annuncio ufficiale della Legendary Edition, che chiaramente era la notizia più importante, erano uscite solo una concept art e una dichiarazione di Casey Hudson, che facevano riferimento ad un nuovo capitolo in lavorazione. Chi se lo aspettava che poche settimane dopo ci saremmo trovati a guardare addirittura un trailer? Io non ho di certo, infatti mi sono reso conto che la mia reazione ai tempi è stata da shock completo, perché vi ho riportato la notizia con alcune considerazioni personali, ma non ho nemmeno provato a fare un'analisi del trailer. Con il video di oggi intendo quindi rimediare a quella mancanza, sperando di trovare il vostro interesse su alcuni particolari di cui finora non ho mai parlato sul canale. Ok, cominciamo prima dai fatti e poi passeremo ai ragionamenti. Il trailer si apre con l'immagine di due galassie relativamente vicine tra loro, e anche senza essere degli astronomi sappiamo benissimo di quali galassie si tratta, quella di Andromeda a sinistra e la Via Lattea a dominare la scena al centro. Parte così una sequenza che si svolge interamente nella Via Lattea, nella quale in pratica ci addentriamo sempre di più, e che è accompagnata da diversi spezzoni audio più o meno comprensibili. Gli spezzoni fortunatamente sono stati via via identificati e trascritti dai fan della serie, e in alcuni casi persino confermati da Bioware. E la cosa interessante è che sono come delle citazioni di eventi in successione cronologica, dal più remoto al più recente. E si parte, o meglio si partiva, addirittura dal 1938, con una trasmissione radiofonica passata poi alla storia. Il celebre sceneggiato The War of the Worlds, La Guerra dei Mondi, di Orson Welles, che riuscì a creare un certo panico tra i radioascoltatori dell'epoca. Se non conoscete questa storia, vi consiglio di fare qualche ricerca, perché è davvero interessante. Nello spezzone, comunque, si sentiva questa frase. Ora sappiamo che nei primi anni del ventesimo secolo, questo mondo veniva osservato. E se vi state chiedendo perché ne parlo al passato, il motivo è che questa parte di audio è stata completamente rimossa dal trailer. Vi ricordate quando un anno e mezzo fa il trailer era sparito per qualche giorno dal canale ufficiale di Mass Effect su YouTube, facendoci anche preoccupare per il futuro della serie? Problemi di copyright, probabilmente, perché quando poi lo hanno ripubblicato, la voce di Orson Welles non c'era più. E non è finita, perché anche lo spezzone successivo è sparito con la nuova versione del trailer. E in questo caso si trattava della voce di Charlie Duke, che dal centro di controllo di Houston nel 1969 dava il via libero all'allunaggio degli astronauti della missione Apollo 11. Bene, da qui in avanti, per fortuna, saranno solo audio relativi ad eventi raccontati nella serie, quindi nessun problema di copyright per BioWare. E si comincia da questo messaggio lanciato dalla stazione Arcturus. Direi che qui il richiamo è abbastanza evidente. Ci siamo spostati in avanti di quasi due secoli, arrivando alla guerra del primo contatto tra Umani e Turian del 2157. Andiamo avanti. Qui penso potremmo essere passati al 2165, quando l'umanità ottiene un'ambasciata sulla cittadella, venendo così riconosciuta come un membro a pieno diritto della comunità galattica. Oppure addirittura al 2183, quando arriva anche un seggio nel Consiglio dopo i fatti del primo Mass Effect. Siamo comunque entrati nel vivo della serie, e ce lo dimostra, anche se in una maniera un po' inaspettata, l'audio successivo. Ok, ci saranno da fare un po' di ragionamenti su questa fantomatica sesta arca, ma per adesso limitiamoci a dire che il messaggio richiama palesemente all'iniziativa Andromeda e che dovremmo quindi essere arrivati al 2185. Siamo insomma ad un passo dalla guerra con i razziatori del 2186, come ci viene confermato dalla scena e dall'audio immediatamente successivi, che ci portano proprio nel vivo di quel conflitto. Le frasi che sentiamo in questo segmento del trailer, mentre scorrono le immagini di centinaia di rottami spaziali, sono un po' meno comprensibili delle precedenti, ma personalmente mi ritrovo nelle seguenti trascrizioni. Cos'è quel caccia o guarda quel caccia? Abbattendo la corazzata? I motori stanno andando in condizione critica? E abbandonare la nave, con il classico suono di un razziatore a rievocare una delle tante scene di distruzione a cui abbiamo assistito in Mass Effect 3. E naturalmente ci riporta sempre a Mass Effect 3, e in particolare al finale, anche l'immagine del portale galattico inattivo, a cui fa seguito questo messaggio. Bene, stiamo per arrivare alla parte più famosa del trailer e che sicuramente ricordate benissimo, ma prima possiamo ascoltare ancora un breve spezzone audio, costituito da alcune voci distorte e sovrapposte tra loro, di cui mi pare ci sia una sola frase che si distingue abbastanza chiaramente. Letture anomale in tutto lo spazio Beh, non so se questa frase vi fa scattare qualcosa in testa, ma vi faccio notare che se manteniamo il criterio della successione cronologica, stiamo parlando di un momento successivo al finale di Mass Effect 3 e che appartiene insomma al futuro della Via Lattea, al nuovo capitolo della serie. E cosa ci sarà nel prossimo Mass Effect? Ma forse un viaggio su un pianeta con tre satelliti, un pianeta nevoso, su cui troveremo i resti di almeno un paio di razziatori, perché è questo che il trailer ci sta mostrando adesso, razziatori inattivi, spenti, magari distrutti? I veri colpi di scena del trailer sono però quelli degli istanti finali, in cui prima vediamo il frammento di un casco N7 coperto da un sottile strato di neve, e poi una breve inquadratura di chi lo ha trovato, la nostra Liara Zoni che ci regala un sorriso indimenticabile. Ma non lasciamoci distrarre dalle emozioni, perché prima del sorriso di Liara c'è ancora qualcosa di interessante da notare, e mi riferisco al gruppetto di compagni e alla nave con cui Liara è atterrata sul pianeta. Avevamo già visto una scena simile in occasione dell'N7 Day 2020, e la nave in particolare, che prende il nome di Mud Skipper o Saltafango in italiano, è apparsa anche una terza volta in un libro dedicato ai 25 anni di Bioware, quindi potrebbe essere davvero un mezzo che utilizzeremo nel prossimo Mass Effect. Sui compagni invece non credo si possa dire nulla di certo, ma a me sembra di vedere un Salarian a sinistra, un Krogan a destra e forse un umano al centro. Voi cosa ne dite? Comunque Mass Effect will continue, meno male, e adesso possiamo metterci a fare qualche ragionamento. La prima cosa che mi viene da dire è che sono già passati due anni e mezzo, probabilmente ne passeranno altri due o tre prima che esca il gioco, e quindi non dobbiamo fidarci troppo di quanto abbiamo visto in questo trailer. A dicembre 2020 in Bioware avranno avuto probabilmente qualche idea in testa su quale direzione dare al prossimo Mass Effect, ma direi che possiamo escludere con ragionevole certezza che ci fosse già una sceneggiatura completa, anche perché il narrative director Mary De Marle è stata assunta solo la scorsa estate. Detto questo, nel trailer ci può comunque essere qualche anticipazione di contenuti o temi che verranno poi ripresi nel gioco, e il primo esempio che mi viene in mente è quello del ritorno di Liara, che mi sembra sia ormai confermato dopo le notizie dell'ultimo In Seven Days. Non è escluso poi che ai tempi fossero già state fatte altre scelte importanti per il futuro della serie, e questo potrebbe aver persino inciso sulla decisione di Casey Hudson di lasciare l'azienda, che è stata resa pubblica una settimana prima dell'uscita del trailer, una coincidenza quantomeno sospetta. Casey Hudson, per chi non se lo ricordasse, è stato il project director dei primi tre Mass Effect, potremmo quasi dire il padre della serie, e non mi sorprenderei se un domani si venisse a sapere che se n'è andato perché era in disaccordo con qualcuno, magari proprio in tema di scelte strategiche per il prossimo capitolo. Intendiamoci, sono solo illazioni, ma se vogliamo azzardare delle ipotesi, ce n'è una che secondo me ci potrebbe anche stare. Magari Casey Hudson voleva un sequel che tenesse conto delle decisioni prese dai giocatori nella trilogia, e qualche pezzo grosso di Electronic Arts gli ha fatto capire che non era proprio il caso. Troppo complicato sviluppare un gioco del genere, meglio semplificare scegliendo un finale canonico, e già che ci siamo, infiliamo anche un bel indizio nel trailer, così cominciamo a preparare il pubblico. Qui non so se siete d'accordo nell'interpretare questa sequenza con i resti di due razziatori, come un faro che punta al finale rosso, chiaramente se ne può parlare, ma è anche vero che se volevano restare sul vago era meglio non mostrarceli del tutto, oltre al fatto che, per esempio, non vediamo i segni della sintesi sul volto di Liara. Lasciamo però in sospeso la questione e torniamo un passo indietro, alla prima parte del trailer. I primi messaggi audio sono interessanti, quello dalla guerra dei mondi mi fa pensare in particolare ai Leviatani, e ci si potrebbe anche soffermare sui vari ammassi e sistemi per provare ad identificarli dall'aspetto. Ma se devo dirvela tutta, l'audio che mi ha più incuriosito è questo, quello della sesta arca. Quale sarebbe la sesta arca? In Mass Effect Andromeda ne vediamo quattro. L'Hyperion, l'arca degli umani su cui inizia il gioco, la Leusinia degli Asari, la Nathanus dei Turian e la Parcero dei Salarian. E sappiamo poi che ne esiste una quinta, l'Achilasia, con a bordo Iquarian e le altre specie minori della Via Lattea, ma non abbiamo mai sentito parlare di una sesta arca. Certo potremmo considerare anche il Nexus come una delle arche e arrivare così a sei, ma è strano sentir parlare del Nexus come di un'arca, no? Anche solo a guardarlo, si capisce subito che è un'altra cosa. E allora cosa potrebbe essere questa sesta arca? E soprattutto, chi portava a bordo? Magari il fantomatico benefattore? Chissà. Comunque sappiamo che i riferimenti a Mass Effect Andromeda non sono stati infilati nel trailer per caso. Mike Gamble, la persona di Bioware che ha in mano la regia del prossimo Mass Effect, è stato abbastanza chiaro a questo riguardo e ci possiamo quindi aspettare che la storia di Andromeda verrà in qualche modo ripresa nel futuro della serie. Passando invece agli audio finali, quelli che si sentono dopo la sirena del razziatore, l'idea che ne ho ricavato è che con la distruzione dei portali galattici si siano interrotte le comunicazioni tra i diversi sistemi, da cui questo messaggio, e che poi, magari anche a distanza di anni, sia successo qualcos'altro, anche se sinceramente faccio fatica a capire cosa. Qualcuno ha provato ad identificare i vari messaggi distorti e sovrapposti che si sentono poco prima dell'arrivo sul pianeta nevoso, riconoscendo in teoria qualche frammento di frase che vi riporto per dovere di cronaca. Ma, a parte che io non mi ci ritrovo molto, è dura ricavarne grandi informazioni. Comunque, se investigate meglio questa parte del trailer e scoprite qualcosa di nuovo, fatemelo sapere, mi raccomando. Ok, torniamo alla scena con Liara, perché ci sono ancora un po' di cose da dire. Intanto, dove ci troviamo in questa scena? Beh, dando per scontato che siamo ancora nella Via Lattea, perché finora non abbiamo fatto altro che addentrarci in essa, c'è un pianeta che abbiamo già visitato nella trilogia e che presenta delle forti similitudini con questo paesaggio spaziale. Ve lo ricordate il DLC punto di schianto della Normandy di Mass Effect 2? Il pianeta Alchera, o Alcera, in prossimità del quale i collettori abbattono la Normandy SR1 causando la morte di Shepard, era infatti un pianeta nevoso con tre satelliti e con una vista su una nebulosa che è simile a quella che ci viene mostrata nel trailer. Direi insomma che ci sono dei buoni indizi anche se non si tratta di una corrispondenza perfetta perché Alcera ha o aveva un'atmosfera tossica a base di metano e ammoniaca e Liara avrebbe quindi dovuto indossare un respiratore per non morire asfissiata. Magari si tratta solo di una piccola licenza artistica per permetterci di vedere più chiaramente il volto di Liara ma potrebbe esserci anche un'altra spiegazione. Assistendo a questa scena infatti non dobbiamo chiederci soltanto dove si svolge ma anche quando si svolge e tutto fa pensare che sia ambientata dopo il finale di Mass Effect 3 visto che il trailer ci presenta i fatti in successione cronologica e soprattutto che ci sono quei due cadaveri di razziatori in bella vista. E allora se fossero passati anni o addirittura secoli dal finale l'atmosfera di Alcera potrebbe anche essere cambiata diventando la fine respirabile. Chi ipotizza che questa scena si svolga a secoli nel futuro si basa fondamentalmente su due considerazioni. primo deve essere così perché non c'è altro modo per continuare Mass Effect Andromeda collegandolo al tempo stesso alla trilogia e secondo l'aspetto di Liara dagli abiti scuri alle famose rughe sul suo volto indicerebbero che è diventata una matriarca per cui da Mass Effect 3 devono essere passati almeno 600 anni. Sulle rughe di Liara mi sono già espresso in passato con un video interamente dedicato all'argomento quindi stavolta vi risparmio i ragionamenti e vi dico solo che secondo me non ci sono proprio le basi per affermare che la Liara del trailer si è invecchiata di secoli rispetto a quella di Mass Effect 3 magari poi si scoprirà che è davvero così ma questa scena non è di certo bastata a convincermi. Ritengo invece probabile che sia passato del tempo anche qualche anno dal fattidico 2186 perché se vogliamo credere che questo frammento di casco N7 sia un richiamo al comandante Shepard e io penso che lo sia devono per forza essere capitato un bel po' di cose tra il finale di Mass Effect 3 e questo momento se Liara sta cercando Shepard perché lo cerca su Alcera o comunque su questo particolare pianeta cosa è successo a Shepard dopo la distruzione dei razziatori ammettiamo anche che sia sopravvissuto come ci viene mostrato nel finale rosso perfetto ma poi con i portali galattici distrutti anche solo lasciare il sistema solare sarebbe stata un'impresa figuriamoci arrivare fino ai sistemi Terminus belle domande su cui si potrebbero imbastire tanti ragionamenti ma restando con i piedi per terra dobbiamo considerare che non è affatto sicuro che Shepard sia sopravvissuto al finale di Mass Effect 3 e che Liara lo stia veramente cercando in questa scena del trailer per me è un'ipotesi concreta perché da fan della serie se mi mostri una scritta N7 nel trailer del prossimo Mass Effect io penso subito al ritorno di Shepard e sinceramente non so a cos'altro dovrei pensare ma di conferme ufficiali non ce ne sono state e quindi resta pur sempre un'ipotesi voi cosa ne pensate il trailer di dicembre 2020 vi ha convinto che Bioware intenda canonizzare il finale rosso e riportare Shepard nel prossimo Mass Effect magari anche solo in un flashback o come personaggio secondario oppure no il trailer non può dirci niente perché è stato preparato quando non c'era nemmeno una sceneggiatura o comunque può essere interpretato in altri modi senza contemplare il ritorno di Shepard fatemi sapere le vostre idee nei commenti io voglio solo dirvi e con questo concludo che il materiale pubblicato da Bioware negli ultimi due anni e mezzo dal poster con i get dell'En7 Day 2021 al video con l'audio nascosto di Liara dell'En7 Day 2022 non mi pare abbia annullato il valore di questo trailer che rimane ancora almeno dal mio punto di vista la cosa più interessante che abbiamo visto sul prossimo Mass Effect pollice su se avete apprezzato l'approfondimento e ci sentiamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.